Buongiorno a tutti, oggi vi mostrerò gli effetti che può dare Skyrim Oh, siamo il nostro appassionato giocatore Com'è Skyrim? Bello Come si sente, dai, mi ti gioca Bene Vediamo che bravura riesci a gestire questo mouse Vediamo che ferocia, vediamo la sua espressione Aspetta che mi mi squilibri Eh? No Cavolo Andiamo mentre combattere contro i ragni Aia E' morto Inanzi è un ragno Come si sente lei adesso? Normale Cosa ci puoi dire di Skyrim? Che è bello e basta Non ci voglio commentare adesso Vediamo dove si trova Dove si è adesso sapere dove mi sto dirigendo Ma quindi tu non fai missioni? Voi in giro e basta? Si vado in giro a fare altri tipi Cosa si aspettava di giro a fare altri tipi? Cosa si aspettava prima di giocarci? No lo sapevo già com'era Cioè, non mi parlo il nome ma sapevo com'era bene direi che con questo qua con scusate direi che con questo episodio finiamo qui io sono l'ukmini pastiano ma non sarebbe da mettermi su youtube no no dai così vediamo i commenti di youtube cosa dicono su skyrim e sulla sua morte rubo un cavallo bene direi che con questo episodio è tutto e ci vediamo alla prossima mentre lui ruba un cavallo su skyrim come si sente adesso? meglio ok